L'ho detto alla Presidente del Consiglio, sono più che lieto di riferire, ma finché non ci sono i funerali mi sembra sbagliato. Perché poi va a finire che in Consiglio Comunale ci si mette magari a litigare e non è giusto proprio nel momento in cui non sono ancora state celebrate le esegue. Quindi ho detto alla Presidente di riferire in aula della mia totale disponibilità, però prima facciamo i funerali, tra l'altro dobbiamo anche organizzarli noi perché parte dei defunti non avevano nemmeno famiglia. Adesso stiamo ancora su questo tema.